martedì 6 ottobre ci troviamo a verona per un workshop di info progetto organizzato da action group editore in collaborazione con l'associazione impianti sportivi si parla delle sfide dell'edilizia del futuro un punto importante per l'edilizia ma anche un'occasione per parlare con le tante aziende del settore delle novità tecnologiche presenti oggi sul mercato e allora vediamo quali sono queste novità con questo servizio che abbiamo preparato abbiamo appena chiuso lo stand del marmo max sabato sera in cui abbiamo presentato le novità anticipate ai nostri amati architetti durante gli ultimi incontri presso presso l'ordine gli ordini delle di roma e di milano ed è stato devo dire un grandissimo successo perché come avevamo anticipato queste novità sia nei colori sia nelle texture sia nelle finiture presentate non sono delle novità che emergevano dal nostro solo dal nostro ufficio marketing o dalla nostra lettura del mercato bensì proprio dal professionista che chiedeva che l'apite che si presentasse anche in nuove i nuove forme sia cromatiche che estetiche notiamo anche un certo risveglio da parte del progettista che comincia a rivedere un pochino nella sua figura professionale quale reale innovatore e ispiratore di quelle che possono essere nuove forme e nuove e nuove dinamiche quindi il nel prodotto l'apite che vede proprio una una lastra quindi un prodotto che non è finito è un prodotto che prende forma e dimensione proprio dietro il disegno dietro la matita del di un progettista il disegno dietro la matita del di un progettista il disegno dietro la matita del di un progettista il disegno dietro la matita del di un progettista il disegno dietro la matita del di un progettista il disegno dietro la matita del di un progettista il disegno dietro la matita del di un progettista